quest'anno torna l'auditorio alle fornaci UALG film festival grazie agli ali di Icaro e anche quest'anno insomma hanno pensato al nostro teatro come luogo per per il festival sono un gruppo di ragazze e ragazze da molti anni portano avanti la loro passione per il cinema e diciamo si impegnano non soltanto in questi giorni nella durata del festival ma anche durante tutto l'anno per organizzarlo perché comunque richiede molto impegno sia nella parte di selezione dei film sia in quello dei contatti con i registi attori anche quest'anno sarà una finestra sul cinema italiano e anche internazionale e ci saranno anche secondo me due appuntamenti importanti anche per quanto riguarda la situazione nei paesi esteri ci saranno due film sull'Iran e sarà ospite anche il regista e poi ci sarà un film dedicato all'Afghanistan ecco insomma in cui si parlerà di migrazioni di come i popoli cercano di lasciare terre in ospitali e quindi insomma penso sarà anche questa edizione sicuramente all'altezza del resto si terrà dall'11 al 14 maggio 2023 il WAG Film Festival siamo alla ottava edizione un'edizione veramente importante per l'associazione Leali d'Icaro che organizza il festival perché siamo stati abbiamo sospeso due anni causa pandemia di covid 19 abbiamo quindi molta voglia di ritornare molta voglia di ricominciare a offrire il cinema italiano e internazionale al pubblico del valdarno e l'occasione sarà ottima anche per presentare corti prodotti dall'associazione Leali d'Icaro perché l'associazione oltre a essere organizzatrice del festival è anche diciamo un'associazione che organizza corsi di cinema e di teatro il tema del festival sarà il valore delle piccole cose ogni anno stabiliamo un tema quest'anno ci riteniamo giusto che il valore delle piccole cose sia un tema particolarmente importante per il quale il pubblico si può dimostrare molto sensibile a fronte soprattutto delle difficoltà che negli ultimi anni tutti abbiamo vissuto quindi vi aspettiamo dall'11 al 14 ogni sera all'auditorio Lefornaci